E View on Cagliari ti dà il benvenuto in un prestigioso attico all'ottavo e nono piano nel centro della città. Le nostre quattro stanze offrono tutti comfort come bagno in camera, riscaldamento e aria condizionata, wifi, tv e terrazze panoramiche. Troverai l'ambiente ideale sia per rilassarti che per lavorare e una vasca idromassaggio dove potrai rigenerare corpo e spirito. Goditi la splendida vista sulla città e sui quartieri storici, magari prendendo un aperitivo al tramonto. La colazione è una festa per gli occhi e per il palato con tanti prodotti freschi e genuini che prepariamo per i nostri ospiti tutte le mattine. Nella terrazza al nono piano potrai programmare in relax la tua giornata, prendere il sole e godere del panorama. E View on Cagliari, ci prendiamo cura di te!